e il tenore Leonardo Gramegna, artisti noti e di grande personalità che ci delizieranno con le loro sperbe interpretazioni liriche ma anche con alcune celebri canzoni del repertorio classico partenopeo. Insieme agli artisti citati sono veramente felice tra le altre cose di annunciarvi ora la lodevole iniziativa di due importanti musicisti della nostra Capitanata che sono i maestri Antonella Triscioglio e Pasquale Inglese, un altro applauso per loro, sono già autori di un imponente inno lirico dedicato a questa città, la città di Foggia i quali con grande sensibilità e ispirazione hanno composto per l'odierna ricorrenza un solenne pezzo sinfonico in onore proprio delle vittime civili di quella tragica estate del 1943. Il brano si intitola Memorial Day, sarà quindi eseguito per la prima volta proprio all'inizio di questo nostro concerto commemorativo e volevo ovviamente cominciare già da subito, sarò brevissimo perché siete appunto molto attenti volete sentire questi bravi artisti, deliziavi come ho detto poco fa con questa grande musica e volevo ringraziare il comune di Foggia, un grande applauso e al sindaco Gianni Mogeli che nonostante le risrettenze economiche ha permesso e ha voluto fortemente questa magnifica sederata in particolar modo anche alla fondazione Apulia Felix che ha sostenuto fortemente questa iniziativa e grazie alla Apulia Felix siamo qui appunto a darvi emozioni con questa grande musica. Detto questo vi ricordo in ultimo che questo è un evento, quello di questa sera, facente parte del programma Sere d'Estate sta avendo grande successo, continuate a seguirlo perché ci sono tantissimi, moltissimi eventi e avete almeno un paio, due o tre al giorno per cui l'estate è ancora lunga fino al 14 settembre buona visione e a questo punto faccio qui, prendere il centro del palco al maestro Benedetto Montebello un grande applauso, buon ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti